Entusiasmo, secondo me è una base fondamentale su cui costruire qualunque progetto di impresa, su cui coinvolgere gli altri, su cui costruire la propria qualità di vita, perché senza fede nel futuro, senza fede in quello che si sta facendo, senza entusiasmo in tutto quello che si fa non si costruisce niente di buono. Io credo che questo sia fondamentale e perché ci sia entusiasmo, naturalmente è necessario che il progetto su cui si lavora sia un progetto in cui si crede e ci sia un team di persone che condivida questo entusiasmo con te.